Bentornati amici di Army Magazine, siamo al balipedio interno di Beretta per presentare una carabina che ha avuto un grosso successo tra il pubblico, la Beretta CX4 Storm, che è stata presentata nel 2019 in una nuova veste con alcune variazioni interessanti. Con noi c'è Nicolò Ramus, Product Manager delle armi corte in Beretta, che ci descrive brevemente la carabina e le sue peculiarità. Buongiorno a tutti e benvenuti, abbiamo qui la nuova CX4 modeliera 2018, come sapete è una variante della carabina automatica MX4 in dotazione alla Marina Militare. Grazie a loro abbiamo introdotto alcune migliorie a livello ergonomico-meccanico ed è qui da vedere e da provare. CX4 è caratterizzata da un corpo in polimero che la rende particolarmente leggera, pesa circa due chili e mezzo. Ha un pistol grip in grado di ospitare caricatori da tutta la serie 90 con un calcio integrato sempre in polimero con la possibilità di andare ad adattare la lunghezza. La CX4 è una carabina completamente ambidestra, ad eccezione della leva di sgancio hold open, ovviamente abbiamo l'arma scarica, ha un diretto di armamento reversibile e un pulsante di sgancio caricatore reversibile. Presenta degli organi di mira integrati al corpo della carabina, regolabili, e una picatinny rail a tutta lunghezza per poter montare red dot o ottiche. Presenta una canna filettata con passo M13,5 x 1 mm da 422 mm e una weaver rail, una sorta di picatinny rail sottostante per poter montare dispositivi di puntamento quali torce e ottiche. Presenta la possibilità di montare picatinny rail aggiuntive a ore 3 e a ore 9 ed è disponibile in due colorazioni, nera come il modello che abbiamo qui presente e flat dark hurt. I calibri disponibili sono sia il 9x21 che il 9x19? Esattamente, il 9x21 arrivato prima presenta caricatori da 15 colpi, mentre il 9x19 è introdotto grazie all'introduzione del 9x19 come calibro all'interno del mercato italiano e viene proposto con caricatori da 30 colpi, quindi classificata come A7. Doppe classificazione sportiva e comune, a chi ci segue interesserà soprattutto la classificazione sportiva? Assolutamente sì, classificazione sportiva sì, con capacità caricatore 30 colpi per poter permettere all'utilizzatore di passare le giornate al poligono e divertirsi un po' di più. Possiamo dire il prezzo? Sì, il prezzo è 1.284 euro al pubblico con il poligono inclusa. Ok, grazie Niccolò. Grazie a voi. Con una media di 5 misurazioni il peso di sgancio dello scatto di questa CX-4 Storm è di 2452 grammi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.